ciao ragazzi sto ricevendo un sacco di domande per quanto riguarda l'esposizione delle piante nel mese di agosto quindi nel mese più caldo tutto l'anno e andiamo placare prima di tutto gli allarmismi perché ho già visto che qualcuno ha bisogno a mettere quel via spostare tutte le piante no assolutamente no la sua pianta ha preso caldo fino adesso non mettete al fresco perché dopo se non capisce più niente quindi adesso è caldo la pianta deve beccarsi il caldo ok anche gli aceri che sono piante che magari il sole diretto magari da fastidio può provocare dei danni questo è il mio tridente uno dei due che ho come possiamo notare la pianta sta bene ok questa sta tutto il giorno sotto il sole adesso sto facendo questo video mezzogiorno e mezzo quasi mezzogiorno e 40 è sotto il sole come mai non brucia tutto per due motivi il primo perché la pianta è stata nutrita come si deve spinge ancora è forte e resistente quindi a una marcia in più rispetto quelle piante che già sono ferme quindi sono già in stallo la pianta non mandata l'installo perché sennò inizia poi a fare il contrario di quello che deve fare o che la pianta deve vegetare se si ferma è un problema che ragazzi secondo sfagno sfagno fondamentale ad agosto aiuta a trattenere l'umidità nel vaso un trucchettino potrebbe anche essere prendere la pianta metterla in posizione un po più ombreggiata può aiutare veramente tanto soprattutto se avete piante con vasi piccoli forse l'ho già detto se potete mettete un ombreggiante quello ci sta sempre bene io non lo metto perché io vedo che tutto va bene me ne frego non metto cose in più che non vado a spendere per far degli upgrade vi faccio vedere anche l'altro acero che l'ho portato due secondi fa guardate questo è sotto il sole tutto il giorno tutto il giorno ok il trucco qual è piante carica sta bene in forma e c'è anche un contenitore che mi aiuta tanto che è per quanto riguarda le annaffiature però è fondamentale annaffiare la pianta tutti i giorni regolare abbondante e anche due volte al giorno se c'è bisogno però vi ripeto non andate a fare chissà quale miracolo c'era una per scusate sa quale miracolo esagerato perché succede poi che iniziate a fare cazzate quindi l'obiettivo è creare una pianta che sta sempre bene e che sia poi in grado di sorreggere eventuali problemi climatici cioè come potete vedere ragazzi io non faccio niente che non muovo niente tutto rimane nella posizione iniziale tutto l'anno ok quindi l'estate si arriva al caldo non me ne frega niente annaffiare magari una volta in più e sono posto quindi per andare a sistemare la cosa basta una piccola annaffiatura così e siete a posto ok in inverno uguale non faccio niente ma niente lascio anche questa pianta lascio qui questo inverno vi farò vedere che qua perché se le piante stanno bene e sono nutrite come si deve problemi non ce ne sono mai io faccio due tre cose basta sulle piante lascio stare se iniziamo a muovere e questa la metto lì questa la sposta questa la metto in casa questa me la metto sopra la testa l'altra la giro al contrario l'altra faccio tutta una filatura grazie state sereni tutto andrà bene ok non sta arrivando nessuna catastrofe quindi tranquilli il sole non ha mai ammazzato nessuna pianta ok già ragazzi a bomba bomba